Due iniziative editoriali dedicate al decennale del sisma aquilano. Il quotidiano abruzzese e il centro le ha presentate questa mattina nella sala ipogea del consiglio regionale organizzando una sorta di riunione di redazione aperta a studenti e autorità. Il presidente Lorenzo Sospieri è intervenuto all'inizio dell'evento tracciando alcune memorie personali del terremoto e ringraziando i giornalisti del centro per l'impegno dimostrato in questi dieci anni di narrazione dell'aquila post sisma. Per il consiglio erano presenti anche il vicepresidente Roberto Sant'Angelo e i consiglieri Sara Marcozzi e Americo Di Benedetto. Ma quale ruolo gioca la memoria a dieci anni da un terremoto? Lo abbiamo chiesto a Piero Anchino, direttore del centro. La memoria fine a se stessa serve ma non è sufficiente. Il ricordo deve essere un aiuto per guardare avanti con ottimismo e con e con speranza. Ed è quello che serve all'aquila. Noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo in questa direzione con le nostre iniziative editoriali ma non solo ma con l'attenzione quotidiana che mettiamo sulle vicende aquilane.